Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Road to Disfatta insieme a Raptor Ciao raga! Allora ragazzi siamo tornati, come vedete abbiamo 3 punti Quindi se volete sapere come cazzo è successo andate nel video di Raptor Perché nel video di Raptor praticamente ci sono state 2 partite E nel frattempo andiamo a cercare la partita che la cerca Raptor perché è lui il capitano E nel frattempo che noi cerchiamo una partita parliamo un po' io e voi Allora raga, so che i video di FIFA non se li incula quasi nessuno Perché su Youtube c'è un sacco di FIFA e te ne do massima ragione Però raga io non faccio, penso anche Raptor, non facciamo video perché ne fanno un sacco di gente su Youtube Io faccio un video perché mi diverto nel gioco che faccio E cioè, penso sia questa la motivazione per il quale vi porto video sul canale Così come quelli di Platino, quelli di Minecraft insieme a Raptor, a Emerald, a tutto il mondo intero FIFA, tra poco inizio MotoGP perché me l'ha preso Metano Cioè, se io faccio video sul canale non sono perché voglio praticamente copiare gli altri Li faccio perché mi diverto E questo è tutto, quindi lasciate un pollice in su perché altrimenti mi ammazzo la mamma Eh, che bello Siamo contro i baggatoni del rossi ad orto Mi hanno detto che sei il rosso, sì Allora raga, io ho imparato a giocare un pochino meglio perché so skillare Bella Marcello Attenzione, Marcello intanto FIFA mi scatta totalmente a caso FIFA, stop Vabbè che ci sono 30 FPS fissi quindi penso che non stia laggando Allora, 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 dobbiamo vincere Raga, dobbiamo Per forza, oh dio Mia, mia, è mia, ho detto mia, invece no Spezzagli una gamba, spezzagliela Spezzagliela No, caccio d'angolo No Orco 2 Ok Eh, sì, è il Borussia Dortmund Blazikovsky a 92 di velocità e c'è Abumei anche in mezzo le pigliatutte di testa tranne questa, quindi meglio così Ah, quindi ci stai dicendo che potremmo malamente perdere? Eh, sì, in teoria dovrebbe succedere, però potrebbe non succedere Perfetto Frattutto se baghiamo come le merde No Invece non va Devo baggare A me sta laggando FIFA A me no, ma non so che cazzo di tiro abbia fatto là Beh, bello, mi piace Ma da perdipalla No, non l'ha perso Può guardarsi anche che è una mia impressione, non lo so Vabbè, quando registri Lagchicchia, cioè ti sembra che laghi, però Non l'ha Sì, vabbè, perché Penso sia tipo il nuovo Bandicam, regà Perché ho cambiato modo di registrazione Prima avevo il vecchio Adesso è uscito il nuovo e Ho quello lì Probabilmente questa è la Tipo la terza registrazione che provo a fare con questo programma Oddio E mi devo ancora abituare T'ho visto Devi scattare male, Raptor No, ero scattato, ma quello non lo è Oh, vai, vai, vai Di fisico, di fisico Di, sì, tira Oh, di Maria Oddio Come è uscita la palla Come è uscita Cazzo è lui Ah, ha munito lui No, già stavo sbruccando male contro Rabbi Se non andavo lì e gli ammazzavo la mamma Infatti credo che ti avessi ammunito a te Se avessi ammunito Guarda il fisico di Di Maria Ha detto dove cazzo vai ti apro il culo Eh, vabbè, ho capito Basta, andiamo avanti Allora, ragazzini, ragazzacci Dato che, comunque, so che Sto stronzo che fa Resta così Portacci su Ti venisse un embolo Vedi, vedi come si muove L'importante è bestemmiargli contro Allora, ragazzi So che, comunque, alcuni ragazzi Mi seguono anche su FIFA Cosa ho fatto? What the fuck? Ah, no Bella, ma donno Vabbè, comunque, so che mi seguono anche su FIFA Qui Quindi Quindi Oddio Ronaldo Oddio Cosa ha parato? Porca puttana Vai in mezzo, Raptor Vaga Perché Bale ha crossato così di merda? Vabbè, dicevo Alcuni ragazzi mi seguono anche su FIFA Quindi ho intenzione di iniziare a fare Wager match con i miei iscritti Vedete Che cazzo sono i Wager match? I Wager match sono Delle partite, appunto Con delle Raptor 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 Oh Raptor Sopra, sopra, dalla sopra Vai Ma vaffanculo Perché si è allungata? I Wager match Non sono altro Che delle partite a FIFA Però con qualcosa in palio Io posso Io ho una squadra inglese Che voi conoscete Che ha tutti i giocatori blu E verdi Tipo Io faccio un Wager match Se perdo Vi do uno dei miei giocatori verdi Ovviamente Se ne metterai in palio uno Non quello che deciderete voi Perché C'è Hazard Che l'ho pagato Undici milioni Quindi chi vi si incula? Oh, Raptor Che cazzo hai fatto? Vai, Raptor Raptor In mezzo In mezzo Oh, oh Ma hai falli Porca puttana Che cazzo ho fatto? Praticamente Chi vince Si piglia Il giocatore dell'avversario Senti Non possiamo perdere Tutte le palle di fisico Però che cazzo Siamo dei nanetti Ma l'hai vista Sì, Raptor Scendi un po' tu in campo Cazzo Vaglio a far sentire la presenza Cosa abbiamo fatto? No Ah, monitor lui Ok Ah, ma praticamente Lui si sta Ma cosa abbiamo Cioè, cosa ha fatto? Non lo so Ah Oh, ci ha ucciso Non si fa Allora, Raptor Io te la do Ah, sei tu questo No Che cazzo è questo? Stai laggando sul TS Che Oh, ma allora sto laggando Cattiveria Ho mille di ping Che bello Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Cazzo Date Li fermo in campo Ma sto laggando Perché laggo? Stop Blocks Ok, sembra essere sceso adesso Ok, dai Ho preso un gol Che cazzo Ma sai cosa? Che non mi fa più i trick Cioè Beh, dovrebbe dribbare Il livello 100 Eccolo lì Tira Raptor Oh, è laggato Porca puttana Ma allora mi sa che non siamo noi Sono questi due froci Che ci giocano contro Sì, ha laggato Bastardi infami Vedi, adesso a me nemmeno più mi lagga la registrazione Erano proprio questi due bastardi E laggavano Ma porca puttana No Tutto apposto Vi giuro che quella non era smorfia Oddio Vai Ronaldo Vai 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 So al centro So al centro Eh, vaffanculo Ronaldo Comunque si metterà in pali un giocatore E chi vince si vede il giocatore Dell'avversario praticamente Io posso farlo con gli iscritti Ovviamente come potete partecipare Commentando Questo Video Ma vaffanculo Oddio Date No Ho fatto una cazzata Obby Ma guarda Ma ho pigliato a spallata in bocca quel tizio Merda Eh, sono pure io a parare Che non li so parare Perfetto Rimani centrale Rimango centrale? Sì Ok Speriamo che non li sappia tirare Ok, li sa tirare Cazzo Dai Rapp Possiamo recuperarla La dobbiamo recuperare Cazzo Voglio vincere Cioè una partita nei miei video vinta Capisci? Una sola Per far vedere che vinciamo anche noi Beh sì Verso il ventesimo episodio della serie forse Ah sì, ci sta Raga, probabilmente questa serie Sarà non Road to Division 1 in copp Probabilmente è Road to Division 1 Non rete Ah, noi abbiamo fatto Poi fallo Ah, GG Ok, arbitro Tranquillo Comunque è ripreso a laggare Quindi Eh, ma poi si laggano come i cani Ma vaffanculo Cioè Eh, vabbè No, vabbè No, insomma Che cazzo è Sul serio Prendiamo palle da tutte le parti E non quelle che pensate voi, cazzo E c'ho pure ammonito Marcello Vabbè Ma che cazzo Oddio Vaffanculo Ti sfondo nella porta Bastardo Se entrava sta palla Ti giuro che Esultavomi Mi sentivano fuori Fine fuori la Raptor Perché cadi? Eh Buccia di banana Ah, ok Pensavo avessi trovato 500 euro per te Mi sarei messo meglio Sì, direi di sì Vabbè che tu fai già un sacco di big money con la partner Ah Raptor è un money grabber Raga, fa 6.000 euro al mese Cazzo Raptor vive Uh Eh già Raptor vive a Los Angeles Ha una villa con A sette macchine Tipo Ha tre piscine Di cui due interna e una esterna Un campo da calcio in casa E l'unica persona del mondo Ha una piscina sul soffitto Non sul tetto Sul soffitto In orizzontale Ha tipo La sua casa è grande Quanto tipo La casa mia Però moltiplicata per 20 T'ho visto Raptor Ma vaffanculo Rimpalli della mia minchia Rimpallami sul cazzo La prossima volta Teme visto Giocatore no Oddio Ah è fallo per noi Ok Già bestemmiavo Se era contro Però lui non lo ammonisce Eh l'ho data in mezzo Gisuno Porca Perché sei fuori dal campo Non lo so È bello Lagga Porca Puttana lagga No spero non ha laggato adesso Mi sa che si te Come pigliare il gol Della merda Fuori gioco Fuori gioco Oh dio Stavo bestemmiando Interiormente Sì ma è mai possibile Che nei miei video di FIFA Deve esserci per forza Una bestemmia censurata Per adesso no Mi sto trattenendo Eh vabbè Ma tra poco ci sarà la mia Raptor Ah ecco Ti pare Sui nostri contropiedi Finisce Cioè Raptor abbiamo preso Tre gol A gratis Praticamente Secondo questa media Potremmo finire sia a zero Sì ma lui ha fatto Quattro tiri E E quattro in porta Capisci Ma è ovvio Come cazzo è possibile Eh Guarda quello che cazzo ha fatto Vediamo se cambia qualcosa Ma che deve cambiare Caressa della mia minchia Deve cambiare Pidiamo più pizze Di un forno a legna Giusto per citare a caso Marcus Krohner No Raptor c'eri solo tu Che cazzo fa Perché Ma è bello che non gliel'ho detto Manco io di farlo Mia Invece no Nostra Eh vabbè ti pareva Vabbè nemmeno battono Le rimesse laterali Aspettano Perdono pure tempo I figli di puttana Solo tedeschi possono essere Questi qui O tedeschi o russi O pezzi di merda O pezzi di merda Magari tipo pure questi Sono nostri iscritti Che si stanno per disiscrivere Dal canale Perdi Questo video invece di portarci iscritti Oh ma che cazzo Perdere iscritti I trickshot Tutto il portiere Tutto calcolato Vai Raptor Dai Dagli una spallata in culo Buttagli il pisello nel culo Che cazzo ne so Guarda qui c'è Oh Oh Sono in fuori gioco No 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 è fuori gioco E invece non fuori gioco Porca puttana Per non dire un'altra cosa Che inizia con A E con M E finisce con A Oli Vada sto stronzo Che vuole passare a questo lì vicino E invece no Va che figlio di troia La mamma fa la pompinara Sull'autostrada Madonna se la prendi io La mamma fa la pompinara Ed è così che gli paga la connessione A sto bastardo Pezzi di merda Vai Raptor Ma il vantaggio non ce lo poteva dare Vabbè No Raptor Perché Ah quel tizio era già stato ammonito Non l'ha espulso Madonna Madonna Ma quanto cazzo sei lento Madonna Ma vaffanculo La palla Oddio Madonna Lercia Censura Non è Mai si ricorderà Sì me lo ricordo Cheat Come nel video di Emerald Nel mio video Questo video avrà due cose da censurare E poi Zero censura E bestemmia random Ma perché i nostri giocatori Stanno diventando mongospastici Non lo so Qualche problema grave avranno Vai giù Ah per una volta Vai Ronaldo col fisico E vabbè Uh Eh che Ma tutti li vincono Tutti Ma te ne vai un po' affanculo Con questi rimpalli di merda Oddio Mostra Vai Modric No chi è Qualcuno qui Dalle in mezzo Raptor Dalle in mezzo Dai cosa cosa sto in mezzo Io Sto in mezzo Benzema Devi morire male Ma con i piedi Non ci sei andare Questo Benzema Della mia minchia No Eccolo lì Eccolo lì Eccolo E' successo No 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 Portiere fai qualcosa No 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 Uh Non commentare Non commentare Sicuramente è infortunato Sto tizio Si Raptor 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 Cosa cazzo fai Oh Gli sei fatto male Blazikowski Quanto sto godendo Raptor dovresti passare L'ho spostato Ci ho camminato sopra Madonna Madonna Guarda Infortunato Gli corre ancora E' un po' fuori gioco Figlio di troia Vabbè Raptor Cioè Oddio Vincerla è impossibile Pareggiarla anche Dai un gol Uno solo Il gol da bandiera Dai Esatto Magari pure un autogol Mi sta bene Vabbè dai facciamo autogol No autogol suo Ah Quindi è un loro autogol Esatto No No Oh Ma chi è quel frocio di merda Oddio L'intervento Ma dopo La Siria sta facendo Il mirato Violento Bella Vai Beh il cazzo Che t'hanno pagato 100 milioni Se non corri tu Chi cazzo deve correre No Si vabbè Ma Umers C'ha tre piedi Eh Ma sti tedeschi Del cazzo E poi Oh Noi non becchiamo C'è squadre normali Contro Chi il Borussia Chi il Brasile Guarda là E chi E chi il Real Lol Mezzo fallo quello Non va a fare niente Ma chi se ne frega Cioè Ce ne hanno fischiate Già troppi No Vabbè La palla Che si ferma Ovviamente La palla si ferma Mia E infatti Eh Lì non c'è Perché siamo tutti dietro Al centrocampo Non ne ho idea Vabbè No comment Raptor dove cazzo stai andando No comment Carvajal La puttana di tua mamma È una grande pompinara Fai pompini a tutta la Spagna Corri Vado Raptor secondo me Dalla prossima partita Tipo dobbiamo cambiare squadra No ma va In realtà non fa per noi Mi sa Corri Ma perché Dalla in mezzo Eh vabbè No Ma stai scherzando Non ci posso credere Sono serio Non ha dato fallo Non ha dato fallo Un momento Mi spacco Che sta facendo Bello Guarda Uno struzzo Sta saltando Vabbè Vabbè Io non farò Guarda Cioè Ma tranquilli FIFA non è bugato FIFA è un gioco legit Vabbè Di Maria che perde palla Così Madonna Tira Raptor Valle Tira No ma tranquilli Non è bugato FIFA È tutto tranquillo Ragazzi Dovete andarvi a vedere La pubblicità di FIFA Che facevano tipo Agli inizi del No vabbè Nel 2013 Insomma Fini 2013 Quando uscì Il nuovo sistema Si sembrava il gioco Perfetto Il nuovo sistema Ignite Migliorato I migliori contrasti Della storia Mortacci loro Uh uh Perché il portiere Si è buttato dentro Ah quindi dobbiamo Soffrire ancora Per pochi secondi Raptor È quasi finita La nostra agonia Ma meno male Tira Ma vaffanculo Magari Ti lasciava la connessione A sti due Merda Ti immagini Dossiamolo Raptor Eh Dossalo Tanno pure Tanto il potere Niente Regà Sul mio canale Non vedrete mai Una vittoria Su FIFA Ma non ci arrenderemo Qui Regà Il road Tutto disfatta Avrà 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 Non lo so Succederà qualcosa Sicuramente Non verremo promossi Perché dobbiamo fare Sette punti In cinque partite Quindi significa Vincerne due E pareggiarne uno La possiamo fare De ce la potremmo fare Regà Però Solo se commentate Condividete Mettete mi piace Ah dicevo Se commentate Questo video Sulla mia pagina Facebook Estrarò il vincitore Per giocare Contro di me A FIFA Ovviamente Dovete avere FIFA per PC Perché noi Gioiamo su PC Su PC Gioiamo noi E questo video Finisce qui Il canale di Raptor Lo trovate in descrizione Se volete andare a vedere La partita prima di questa E quella ancora prima E Raptor ha smesso Addirittura di giocare A FIFA Ha quittato E io quitto Questo video finisce qui Datevi saluta E ciao Ciao a tutti Ciao a tutti